Ciao, sono Marco e nel video di oggi andremo a vedere un'estensione di Divi chiamata TableMail. Nei video precedenti, che trovo in parte suggeriti qua sopra e gli altri all'interno del mio canale, siamo andati a conoscere uno tra i più popolari temi per WordPress, appunto Divi. Siamo andati quindi a esplorare il suo sito per vedere quali sono le sue funzionalità, quanto costa, come ottenere supporto. Abbiamo provato live il page builder di Divi per di fatto andare a capire come costruire, come costruiremo quindi le pagine del nostro sito. Ci siamo poi soffermati su quella che è la vasta libreria di layout messa a disposizione da Divi, dove possiamo importare con pochi semplici click un layout, appunto, un template, e utilizzarlo come pagina di template per una pagina o più pagine del nostro sito, oppure addirittura importare un pacchetto di layout e di fatto ritrovarci con quello che può essere definito un sito chiave in mano. Dopo ancora ci siamo spostati su quello che è il Marketplace, ovvero tutti quei prodotti creati da autori di terze parti, stiamo parlando quindi di aziende o sviluppatori che hanno deciso di sviluppare temi child, come nel caso dei video che abbiamo già fatto, che abbiamo già visto, oppure estensioni, stiamo quindi parlando di plugin, è uno tra quelli e quello di oggi, appunto, tutti quanti che gravitano intorno alla realtà di Divi. Direi quindi a questo punto di non perdere altro tempo e andare a vedere, appunto, questa estensione per il video di oggi di TableMaker. Direttamente dalla home page di Divi andiamo a vedere quello che è il Marketplace e le estensioni, troverai comunque poi il link qua sotto in descrizione, e andiamo a vedere questo Divi TableMaker. Come abbiamo già visto per tutte le altre estensioni e gli altri temi child, non abbiamo limiti di utilizzo per questa estensione, quindi vuol dire che possiamo utilizzarla su quanti siti noi abbiamo necessità, e inoltre abbiamo compreso nel prezzo un anno di supporto e aggiornamenti per quanto riguarda questo plugin. Questo plugin intanto ha un costo di 35 dollari, diversamente da altri add-on che abbiamo visto in precedenza, questo add-on si specializza su quello che è la costruzione di tabelle con colonne e righe. Andiamo a vedere un po' più nel dettaglio di che cosa si tratta per renderci un po' meglio conto, quindi non abbiamo di fatto moduli aggiuntivi, template, pre-costruiti, eccetera, ma abbiamo appunto questa tipologia di moduli dove possiamo appunto andare a costruire tabelle. Andiamo un po' a vedere che cosa possiamo costruire, qua naturalmente abbiamo tabelle di tipo basico, quindi molto semplice, dove abbiamo di fatto un header per quanto riguarda la parte in alto della tabella, anche dei leader per quanto riguarda la parte sinistra, quindi la classica tabella con delle intestazioni in alto e a sinistra e i vari contenuti nella parte centrale. Abbiamo anche la possibilità di, come potete vedere, di costruire tabelle in altri modi, quindi abbiamo più righe, qua abbiamo diverse colonne, abbiamo la colonna 1, la colonna 2, che a sua volta è divisa in altre tre sottocolonne, sempre facendo parte della colonna 1, quindi abbiamo diverse tipologie. Abbiamo anche la possibilità di costruire tabelle con lo scroll, quindi come potete vedere abbiamo il leader bloccato, quindi tipo sticky che resta bloccato e possiamo scrollare dall'alto al basso tutti i vari valori, le altre varie righe. Stessa identica cosa possiamo fare con leader di sinistra, quindi come potete vedere qua possiamo scrollare lateralmente quelli che sono i contenuti della tabella e abbiamo invece le righe diciamo bloccate sulla sinistra. Scendendo ancora abbiamo delle tabelle di tipo responsive, le vediamo un attimo in azione, per esempio abbiamo queste prime due tabelle che come potete vedere andando a ridurre diventano degli accordion, quindi abbiamo accordion con appunto quella che è la dimostrazione. Andiamo a ridurre ancora, vediamo quello che può essere proprio il responsive, abbiamo appunto accordion, abbiamo per esempio qua bloccato per colonna, oppure abbiamo l'accordion bloccato per riga, quindi anche lì scegliamo con quale costruire l'accordion e come potete vedere sono proprio di tipo responsivo, oppure bloccati, quindi non accordion ma bloccati sia per riga che per colonna, come ne abbiamo visti poco fa. Andiamo ancora avanti, abbiamo lo span, come potete vedere l'abbiamo già visto un pochettino nella prima parte, possiamo appunto dare dello span tra quelle che sono colonne e righe, quindi possiamo andare a creare la tabella molto molto diciamo esteticamente più gradevole, quindi possiamo andarla a modificare. D'accordo? Quindi possiamo vedere appunto come possiamo creare span tra le righe, per esempio, quindi avere una riga con sottorighe e un'altra riga sotto che va a prendere invece tutte le righe sottostanti, e stesso discorso per quanto riguarda le colonne. Come potete vedere possiamo usare colonna 1 e colonna 2, avere una sottocolonna intera, avere un'altra colonna che prende tutte le due colonne create sopra e sotto, insomma, possiamo sbizzarrirci. Inoltre all'interno di queste tabelle possiamo anche creare tabelle con contenuto all'interno, quindi di fatto abbiamo tutte delle colonne e dentro ogni colonna possiamo inserire del contenuto, per esempio qua vediamo gli esempi con immagini, testo e anche con un bottone o con per esempio qua la quantità, qui un esempio di prodotti per esempio, dove abbiamo la possibilità di comprarli oppure di selezionarli o se non sono disponibili abbiamo il sold out. Qui abbiamo la possibilità anche di creare degli spazi tra le tabelle o mettere dei bordi, quindi per esempio qua sono suddivise da spazi, in questo caso invece sono suddivise le tabelle, le celle sono suddivise diciamo da bordi. Possiamo anche utilizzare colori, quindi possiamo usare colori differenti per quanto riguarda le righe, per esempio dividere una riga da un'altra o dare un colore specifico a un'intera colonna, o dare un colore a una specifica colonna e cambiare il colore anche di una specifica cella. Possiamo davvero liberamente andare a creare ciò che vogliamo. Possiamo ovviamente inserire del testo come abbiamo già visto e andare a colorare anche semplicemente soltanto non le celle ma i singoli testi delle singole celle, quindi possiamo fare appunto del testo nero di default, una colonna che è totalmente colorata con il testo colorato di un altro colore e anche ogni singola cella per esempio colorata di un altro colore. Possiamo anche inserire per esempio caratteri in grassetto e altre cose e scegliere. Oltre a questo abbiamo ancora la possibilità di andare a stilizzare le tabelle, quindi possiamo per esempio andare a creare, qua stiamo vedendo soltanto alcuni esempi, stiamo vedendo per esempio bordi a puntini, stiamo vedendo senza bordi come abbiamo visto in precedenza con lo spazio tra una cella e l'altra, abbiamo tabelle con invece le celle con gli angoli arrotondati, qui abbiamo ancora un'altra stilizzazione sempre con due angoli non arrotondati e gli altri due angoli di ogni cella arrotondati, qua abbiamo invece una spaziatura tra una riga e l'altra e invece le colonne sono tutte unite, qua abbiamo un altro layout un po' più, chiamiamolo disordinato. Quindi queste sono soltanto alcuni esempi di ciò che possiamo realizzare con questo addon, che è appunto un po' più settoriale, un po' più particolare rispetto agli altri addon che magari abbiamo visto in precedenza, serve per un utilizzo specifico appunto per la creazione di tabelle col quale poi naturalmente abbiamo visto, possiamo inserire all'interno qualunque cosa vogliamo, abbiamo la possibilità di renderle responsive eccetera eccetera. Bene, direi che a questo punto l'unica cosa che ti resta a fare è capire se questo diciamo questo addon può fare al caso tuo o di un tuo cliente, prendere, valutare se appunto può essere l'addon giusto per te e eventualmente quindi procedere con l'acquisto. Mi auguro che tu abbia trovato utile questo video, se comunque hai dei dubbi o delle domande lasciamelo scritto qua sotto nei commenti in modo tale che io possa esserti d'aiuto per quanto possibile. Se ancora invece stavi cercando qualche approfondimento relativo al mondo work, su e-commerce, temi, plug-in, db, elementor e spulciando all'interno del mio canale non hai trovato quello che stavi cercando, lasciamelo anche a questo scritto qua sotto così che magari io possa trovare qualche nuovo spunto o qualche altra nuova idea per qualche altro video di informazione, proprio come quello che hai visto adesso. In ogni caso comunque se questo video ti è piaciuto metti mi piace, attiva la campanella qua sotto e seguimi nei prossimi video. Ciao!